In Ucraina, Viktor Yanukovych ha vinto le ultime elezioni presidenziali. Qualche giorno dopo il suo giuramento si è recato a Bruxelles nel suo primo viaggio ufficiale all'estero. Un segno di apertura all'Occidente da non sottovalutare. Rispetto ai suoi avversari, lei è visto come un politico pro-Russia. Allora, perché ha scelto Bruxelles come suo primo viaggio all'estero da Presidente? Avevo due inviti, uno per il primo di marzo, un altro per il cinque. Voglio portare avanti una politica equilibrata che vada incontro agli interessi dell'Ucraina. E voglio che Europa e Russia abbiano nell'Ucraina un partner affidabile. Quale sarà la differenza maggiore tra la sua politica europea e quella di Viktor Yushchenko, che mirava all'integrazione del paese nell'Unione Europea e nella NATO? Ritengo che abbiamo fatto un passo importante per quanto riguarda i negoziati sotto il punto di vista prettamente degli affari commerciali. Questo sarà l'aspetto che essenzialmente cambierà. Le nostre relazioni dovranno essere meglio definite. L'obiettivo dell'integrazione europea sono le riforme in Ucraina. Inizierò per forza queste riforme. Qualsiasi altra cosa faremo, i nostri prossimi passi saranno fatti in quest'ottica. Quindi mi dica, perseguirà l'adesione alla NATO o no? Sicuramente continueremo il nostro processo di integrazione europeo. Per quanto riguarda l'adesione alla NATO, al momento questo punto non è in agenda ed è difficile stabilire quando lo sarà. La situazione attuale del paese è tale che questo tema, così fortemente politicizzato, contribuisce solo all'instabilità politica e divide la società. Il mio obiettivo è unire la gente ucraina, stabilizzare questo paese, farne un partner di fiducia. Sembra però che i suoi sostenitori vogliano un avvicinamento alla Russia piuttosto che a Occidente. Come verrà realizzato? Credo che al momento dobbiamo concentrarci sulle mancanze che hanno caratterizzato la nostra relazione con la Russia. Per il futuro vedo per Russia e Ucraina un rapporto d'amicizia, di partnership, rapporti di buon vicinato, funzionali agli interessi russi e ucraini. Mi spingo a dire che i nostri popoli vogliono ripristinare i rapporti tradizionali e si attendono questo dalle politiche dei due paesi. Cosa farà per migliorare queste relazioni? L'Ucraina è pronta a riconoscere l'indipendenza dell'Abkazia e dell'Ossesia del Sud? Ho già detto che ci opponiamo alla politica dei due paesi. Come ad esempio in Serbia per il riconoscimento dell'indipendenza del Montenegro, voglio dire del Kosovo, e anche in quel caso è risultato evidente che i conflitti irrisolti sono peggiorati. L'altro caso esemplare è quello dell'Ossesia del Sud. Quello che vorrei sottolineare è che le regole internazionali debbono valere per tutti, senza nessuna eccezione. Nel prossimo tempo, ciò che le regole internazionali debbono valere per tutti, non devono avere esplicità. Cosa vuol dire? Che l'Ucraina è pronta a riconoscere l'indipendenza? Per il momento questo punto non è in agenda. Ci troviamo di fronte a un precedente che sarebbe stato meglio evitare. In ogni modo, si è permesso che si verificasse. Sta aspettando un ulteriore passo della Russia prima di definire la sua posizione su questo punto? Penso che di questo aspetto parlerò prestissimo nel corso della mia visita a Mosca. Siete interessati ad aderire all'unione doganale tra Russia, Bielorussia e Kazakstan? Certo, ma ancora non ne conosciamo le regole. Non sappiamo quale ruolo ci spetterà. In secondo luogo, l'Ucraina oggi è membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e l'adesione all'unione doganale deve essere compatibile con le regole dell'OMC. Bisogna verificare questa possibilità con molta attenzione. Dobbiamo calcolare i benefici che questa adesione può darci, così come i benefici per i nostri partner, e come potrebbe rientrare nel quadro dell'OMC. Parlando del futuro, penso sarebbe un bene che partner come Russia, Kazakstan e Bielorussia entrassero a far parte dell'OMC. Saremmo più vicini agli obiettivi di cui parliamo. Parlando di uno dei temi di maggior conflitto tra Russia e Ucraina, il prezzo del gas e le tariffe di transito, pensa di avere un margine di manovra maggiore rispetto ai suoi predecessori? Sono sicuro che di questo se ne parlerà nel corso della mia visita a Mosca e avremo una risposta quanto prima. Naturalmente questo problema è di vitale importanza per l'Ucraina, perché riteniamo che i prezzi attuali sono assolutamente ingiusti. e non vogliamo costruire un rapporto con un nostro partner su basi così poco convenienti. Qual è il prezzo giusto per lei? È un problema che deve essere negoziato insieme a tutte le altre questioni che restano aperte con la Russia. Come dicono i russi, dobbiamo negoziare un intero pacchetto. Grazie per l'intervista, signor Presidente. Grazie.